il a i i i i i i i i i E' tua Mia mamma E' ok Veloce che non posso prenderla Sì Justin Justin How are you Justin? Eh bastardi nessuno mi fa gli auguri Ah come yo Roberto Blelli Aguri 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 Gli auguri Aguri P filho Che non sono Ahhhh Fai geh 재밌 sé e te li auguro go con no ho asil cal shilka no, guarda, guarda, guarda faccio underpaccia the undertaker Abbiamo la targa Sì Sì come sto ancora facendo un video Questa qui dura 27 minuti di video Porco dio Gio ti amo Porco dio Sì questo qui fa al medio una telecamera Lui faceva così Allora dopo faccio la cazzata Vado là di dietro mi metto a torso nido E mi metto a correre in mezzo alla neve e mi lancio Vai vai Adesso dobbiamo andare a mangiare a casa loro Come mangiare? Ma io ho già mangiato E li mangio anche io ho già mangiato No no io non ho fame Sai quanto cazzo ho mangiato È il mio compleanno sai quanto cazzo ho mangiato Che cos'è che hai mangiato? Un budino Che ti ha regalato Niente Mi arriva la Wii A quando? A febbraio No scherzo Tra qualche giorno Ma vabbè Sì è vero La possibilità di amici Ce li prestiamo Eh? Ce li prestiamo Ah sì Tu poi hai il nunchak Pensa che bello Quanti joystick hai tu? Due Ecco Vieni a casa mia E ne abbiamo tre Perché? Fata Io ne ho uno Tu ne hai due E possiamo giocare in tre Comprano te ne ho un altro 50 euro Non li spendi Ma sì poi Metti Ne compro Se ne Al massimo Mi mamma Ne compra un altro C'è un altro C'è un altro